Stiamo per entrare nella maison di due grandi stilisti Dolcetto e Banana Pazza, questa collezione di gioielli non piace a nessuno Abbiamo i depositi pieni E non solo Ehi, ti muovillati, ci penso io, chiamo il mio amico Giallo Pronto? Giallo, tu lo prendi vero? Dolcetto, di cosa stiamo parlando? Ho un affare grosso e prezioso tra le mani, posso venire? Tanto lo so che tu sei sempre aperto Chiariamo, i miei negozi sono sempre aperti Anche in agosto, con orario continuato E acquistiamo e permutiamo ore argento Giallo, e io di che sto parlando? Dici, giresse miente? Scusa Mottola, via Europa 5